Io so chi sono. Quando avremo finito non sarai più te stesso. Ricordo. Ricordo tutto. Ricordare tutto non vuol dire sapere tutto. Raccontami. Hanno violato il sistema. Forse è peggio di Snowden. Abbiamo il riconoscimento facciale. Cristo Santo è Jason Bourne. Perché è tornato? C'è una manifestazione davanti al Parlamento greco. La userà come copertura. Ti hanno seguita. Dobbiamo muoverci. Ha visto molto. Sa molto. Se non stesse venendo per noi. Se fosse per qualcos'altro. Volontario. Per una mezzogna. Sono Jason Bourne. Devo parlarle. 32 morti. La gente è più sicura per quello che hai fatto. Non troverai nessuna pace se non dirai a te stesso chi sei veramente. Mio Dio, è Jason Bourne. Perché è tornato? So chi sono. Ricordo tutto. Ricordare tutto non vuol dire sapere tutto. Il mondo è in guerra. No. Grazie a tutti.